Musica Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale a cura della redazione di RTV38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. Una puntata questa dedicata in gran parte alla sanità nella nostra regione a partire dal discusso tema delle graduatorie per gli operatori sociosanitari con il Consiglio regionale che ha disposto la proroga. Le graduatorie per gli operatori sociosanitari in Toscana saranno prorogate di un anno grazie a una proposta di legge approvata dal Consiglio regionale. L'atto prende le mosse dalla necessità di superare l'endemica mancanza di personale ed è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea Toscana. Nelle liste del dicembre 2021, a seguito del concorso Estar, risultano idonei 2.600 partecipanti, ma ad oggi ne sono stati assunti meno del 10%. La proroga delle graduatorie non era affatto scontata. Fino ad ora noi abbiamo avuto pareri contrari da un punto di vista giuridico sulla potestà legislativa regionale circa la possibilità di prorogare le graduatorie perché ci sono delle norme che dicono che durano due anni le graduatorie, quindi non è assolutamente pacifico. Da un approfondimento fatto in commissione nell'analisi del testo presentato abbiamo visto che ci sono dei precedenti, comunque dei riferimenti giurisprudenziali di corte costituzionale che sostengono la legittimità e la potestà legislativa regionale circa la possibilità di ampliare la durata a certe condizioni, per esempio la permanenza dei requisiti di professionalità di chi è in graduatorie. Quindi non è una materia assolutamente banale, è la prima volta che si fa. In altri casi in passato, in altre regioni, le leggi sono state impugnate, quindi abbiamo scelto con una mozione, con un emendamento presentato in terza commissione di limitare a un'unica graduatoria, quella degli OSS, che è quella più importante e meno utilizzata che per ora abbiamo, per capire e passaggiare anche la sussistenza della potestà legislativa. Questo è sicuramente un passo importante ma non è un passo risolutivo, nel senso rischiamo che anziché risolvere il problema a centinaia di persone che aspettano di essere assunte nel servizio sanitario regionale, gli creiamo una falsa aspettativa, quindi gli creiamo un problema ancora più grave. Adesso la regione Toscana si deve impegnare a fare un piano delle assunzioni e deve smettere soprattutto di perpetrare, come sta facendo da troppo tempo, una prassi assolutamente sbagliata, per tanti versi illegittima, che è quella di attingere anziché alle graduatorie, assumendo in maniera regolare le persone, alle agenzie interinali, assumendo a spot magari anche le stesse persone. Quindi questa cosa qui deve finire specialmente nella sanità pubblica, altrimenti da parte del Partito Democratico e della sinistra smettano di sventolare la banderina della sanità pubblica e ci dicono che si fa altro. È un atto importante, una storia che inizia con la nostra mozione portata in Consiglio regionale, un'azione bipartisan, devo dire la verità, l'ascolto dei territori, l'esigenza di tante lavoratrici e tanti lavoratori, l'auspicio, il sogno di lavorare nel sistema pubblico e soprattutto il monito che facciamo con forza alle aziende sanitarie che in questo anno questa gradatoria venga utilizzata. Ci sia uno scorrimento effettivo, le persone vengono assunte a seguito di una selezione pubblica e trasparente e in questo caso serve fare in modo che queste persone possano lavorare nel sistema sanitario toscano e per l'appunto evitare processi di esternalizzazione. Quello che è avvenuto in passato è che molte volte con processi di esternalizzazione poi non si faceva scorrere la gradatoria. Adesso che la gradatoria viene prorogata, l'auspicio che venga utilizzata è come tale, si possa coronare di fatto il sogno di tante lavoratrici e lavoratori di diventare dipendenti pubblici del sistema sanitario toscano. Forza Italia si è sempre battuta affinché le osse, gli ossi in particolare, venissero assunti nel sistema sanitario regionale dove manca diversi personali. Arrivata alla scadenza, perché il bando scade nel marzo del 2024, abbiamo presentato una proposta di legge alcuni mesi fa, devo dire che tutte le forze politiche in questi mesi hanno lavorato sulla mia proposta di legge, cambiando alcune cose, la mia era una proposta di legge omnicomprensiva per tutte le gradatorie. Il Presidente Sostegni in particolare, che ringrazio insieme a tutta la Commissione Sanità, ha fatto un emendamento che ha circoscritto l'ambito legislativo soltanto per le gradatorie delle osse. C'è una potestà legislativa regionale residuale per quanto riguarda le assunzioni delle gradatorie. La Corte dei Conti della Sardegna ci dice che laddove vi sono le gradatorie e non sono esaurite dobbiamo attingere a quelle gradatorie, prorogando anche quelle gradatorie, non ricorrendo per esempio ai medici a gettone, perché si risparmia i soldi, oggi si arriva a un voto all'unanimità che proroga di un anno quella gradatoria. Certo, l'ambizione oggi non è solo quella della gradatoria, non è solo quella della proroga, ma quella di attingere a quella gradatoria per andare ad esaurire, per assumere quelle 2600 persone che sono risultati idonei, che hanno partecipato al concorso e che ancora oggi stanno aspettando il proprio lavoro. Quindi il primo passo lo abbiamo fatto, Forza Italia ha fatto quello che doveva fare, lo avevamo promesso, abbiamo mantenuto la nostra promessa, abbiamo fatto la legge, la legge è stata approvata, ora però chiediamo alla Regione Toscana di attingere a quella gradatoria, di esaurire la gradatoria e di dare lavoro giustamente a quelle persone che hanno partecipato, che hanno vinto al concorso. Questo è un atto di giustizia, è un atto di giustizia nei confronti di persone che sostanzialmente aspettano e hanno investito del loro tempo e non vedono risoluzione, in quanto purtroppo le aziende non fanno scorrere queste gradatorie. Se questa proposta di legge andrà a buon fine e una volta diventata legge verrà riconosciuta senza nessun intoppo, vorrei e ho la Commissione Sanità dalla mia parte che venga estesa anche agli altri operatori sanitari in attesa di poter entrare nel lavoro. Naturalmente, e concludo, il tetto della spesa sanitaria rimane un punto cruciale che dobbiamo risolvere perché l'aggiramento di questo punto di bilancio attraverso degli escamotaggi è quello che non fa andare avanti la gradatoria e su questo ci impegneremo sia a livello regionale che a livello nazionale. In merito al personale sanitario, l'assessore regionale Simone Bezzini ha risposto in aula a un'interrogazione riguardante il blocco della turnover presentata dalla consigliera Irene Galletti del Movimento 5 Stelle. Bezzini ha assicurato che il ricambio del personale sanitario, medici e infermieri è garantito al 100% e che non c'è blocco della turnover nella stragrande maggioranza dei casi, però nel rispetto dei tetti previsti. L'assessore ha risposto con molti tecnicismi a quello che è un problema che ormai da anni c'è in Regione Toscana e nella sanità pubblica, la mancanza di personale. E soprattutto non ha risposto a una domanda chiave. Quel tetto di spesa che dice essere il limite invalicabile di legge che non va superato per riuscire a essere in pari con i bilanci in Regione Toscana è stato toccato? Ma è stato toccato perché ci sono delle posizioni apicali o dei primariati magari raddoppiati o un eccesso di personale amministrativo su alcuni lati o un ricorso magari al gettone per quanto riguarda alcuni medici o per alcune coperture? Non sappiamo come vengono fatte queste spese e continuare a dire che la sanità toscana è tra le migliori d'Italia senza però dire che sta lentamente peggiorando e si sta facendo sempre più ricorso soprattutto per la diagnostica agli ambulatori al privato ecco questo sarebbe corretto invece dirlo anche perché la manifestazione che è stata fatta anche dei sanitari e le proteste dei sindacati puntano un nodo chiaro c'è poco personale e sono a rischio i servizi che vengono erogati a tutti i cittadini e a proposito di sanità ad Arezzo è stata rinnovata la commissione mista conciliativa con la presenza dei rappresentanti anche del consiglio regionale vediamo uno strumento di conciliazione rapido a servizio dei cittadini che non hanno trovato soluzione con l'ufficio relazioni con il pubblico in casi quali tempi di attesa e derogazione dei servizi lesioni alla dignità della persona diritto all'umanizzazione delle prestazioni sanitarie presunte criticità organizzative o difformità nei servizi e la commissione mista conciliativa dell'ASL Toscana Sud-Est rinnovata nei componenti e presentata alla stampa ad Arezzo dalla titolare della difesa civica in Toscana Lucia Annibali insieme ai rappresentanti del consiglio regionale e al direttore dell'azienda sanitaria Antonio D'Urso Dopo gli adempimenti tecnico-formali abbiamo cominciato a calendarizzarci quindi già abbiamo dei prossimi incontri dove naturalmente cominceremo ad analizzare i casi che erano rimasti in ponte con la precedente commissione per cercare di risolverli nel più breve tempo possibile e molto importante per noi questo è un elemento fondamentale di condivisione e di accoglienza per cercare anche di evitare un'attività che poi giudiziale che potrebbe fare l'utente quindi per noi è un luogo di alternativo di risoluzione delle controversie importante quindi sì, un nuovo sblancio La commissione mista conciliativa per noi è uno strumento molto importante quindi con oggi cerchiamo di dare un nuovo slancio all'attività che potrà fare il suo compito è fondamentalmente quello di mettere vicino di far comunicare e dialogare il più possibile il paziente che può rivolgersi anche al difensore civico e la azienda ospedaliere quindi in qualche modo restringere quella distanza che a volte si crea tra paziente e sanità per così cercare di incentivare un dialogo e ascoltare anche e soprattutto il paziente le sue necessità i suoi desideri in qualche modo Io ho molte aspettative sul funzionamento di questa commissione mista conciliativa che è fatta da ASL dai comitati di partecipazione ASL molto importante rappresenta un ulteriore ponte di dialogo un po' più strutturato l'URP rappresenta sicuramente la prima risposta non basta in alcuni casi è necessario un secondo passaggio In tema di sanità sempre in Palazzo del Pegaso un convegno che sottolinea l'aspetto importantissimo della prevenzione sul fronte del tumore al seno con tante associazioni in particolare una che sul nostro territorio opera e che si basano sul volontariato Un incontro in Palazzo del Pegaso per affrontare il tema dell'importanza dello screening mammografico e del volontariato lo ha promosso Europa Donna Italia una rete molto attiva che si muove sul territorio per supportare le pazienti oncologiche e fare prevenzione sempre a fianco delle istituzioni In Italia dove il carcinoma della mammella è la prima causa di morte per tumore nelle donne nel corso del 2022 sono stati raccolti più di 300 mila euro di fondi Le campagne di sensibilizzazione e divulgazione hanno permesso di raggiungere circa 2.200 donne Il contributo delle associazioni toscane continua ad essere di grande valore e capace di avere un impatto concreto sulla vita delle donne pazienti e non Dobbiamo essere orgogliosi del nostro sistema regionale sanitario io lo dico sempre grazie al lavoro delle professioniste dei professionisti la strutturazione in rete nella rete senologica regionale ha permesso di riuscire a prevenire tanti tumori ha permesso di salvare tante vite umane e dobbiamo dire grazie ai professionisti della sanità ma dobbiamo dire grazie anche alle 12 associazioni toscane che fanno parte di Europa Donna svolgono un ruolo fondamentale perché sono il primo punto di contatto tra una donna che scopre la malattia e non so quanti di voi che ci seguono da casa l'hanno vissuti penso tanti arriva il momento della notizia e ti senti sola hai bisogno di un luogo di qualcuno con cui parlare e l'associazione svolge una funzione di incontro di supporto quello stesso supporto che ora c'è nelle reti di accoglienza sanitaria perché non c'è solo la conoscenza della malattia c'è l'inizio di un percorso che porta poi spesso ad operazioni che ha bisogno di un supporto psicologico qualche giorno fa Agenas che fa il monitoraggio delle performance delle reti oncologiche italiane ha definito la rete oncologica toscana come la prima nel confronto con tutte le altre regioni questo è un elemento assolutamente importante perché questa valutazione è stata fatta tenendo conto non solo degli aspetti organizzativi organismi di governance organizzazione percorsi ma anche sui numeri sui dati relativamente ai livelli di soddisfazione al rispetto del PDTA alle fughe e così via quindi ad oggi e quando siamo primi è sempre un impegno perché poi va difesa questa posizione la rete oncologica della toscana di cui mi sento un po' il nonno lo posso dire è prima nel confronto con le altre regioni questi dunque erano tutti i temi principali legati alla sanità che sono stati affrontati nelle ultime sedute nelle ultime uscite del consiglio regionale l'appuntamento con la voce del consiglio come sempre per la prossima settimana grazie per averci seguito e buon proseguimento arrivederci grazie a tutti